Il Spirit of Porto Piccolo che vede a bordo un Dream Team a punto locale della Vela. Ricordiamo Gabriele, Furio, Benussi, Lorenzo Pressani, Alberto Bolza. La 50. Ausgabe der Barcolaner, der grössten Segelregate der Welt. Das Wetter, der Wind und die Stimmung passen. E' un'immagine della Poglio, der beste und färste Gewinner. Sembra questo che è il grande record delle barche iscritte. I organizzatori hanno creato appunto la linea di partenza di circa 500 metri, chendola arrivare a due miglia di lunghezza nella pre-partenza dopo numerosi outside. Il Spirit of Porto Piccolo Il Spirit of Porto Piccolo Il Spirit of Porto Piccolo